Eccoci con una nuova puntata di Senza Bavaglio. Qualcuno potrà domandarsi ma come mai Luigi Abate ce l'ha tanto con Di Maio e ce l'ha tanto col Movimento 5 Stelle? Nulla di personale, nulla contro il Movimento, ma anzi io sono stato uno di quelli che all'inizio ha visto con simpatia la nascita di un movimento trasversale rispetto alla partitocrazia tradizionale, al porcile partitocratico, però già in campagna elettorale e una volta arrivati al governo il Movimento 5 Stelle ha mostrato tutta la propria falsità e allora vedere ingannati gli ambientalisti, vedere ingannati giovani soprattutto, mi sembra davvero un qualcosa di odioso, un qualcosa che va contrastato senza se e senza ma, punto per punto, perché io non ho nulla contro Di Maio, però vedete i fatti mi hanno dato ragione, tutte le ipocrisie io le ho già evidenziate mesi fa, quando il Movimento 5 Stelle e i parlamentari pentastellati erano Cristo in terra. Andiamo alle balle di questo pallonaro che Di Maio, ma intanto dobbiamo considerare un po' i danni che sta creando all'economia, falsità certamente, ma quel che è peggio danni proprio in termini di occupazione, ma d'altronde cosa si può aspettare da una persona che nella sua vita non ha mai lavorato o ha fatto lavoretti così saltuari e che si trova per incanto, per miracolo in un mondo più grande di lui, quale appunto quello del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministro del Lavoro, Vice Premier. Intanto affrontiamo il tema del lavoro nei festivi, nelle giornate festive, in particolar modo le domeniche e gli altri festivi in generale. Ma io parto da un presupposto che chi lavora deve vivere la propria vita normalmente, nessuno è schiavo, come è domenica per me, così deve essere domenica anche per chi lavora appunto in un ipermercato per esempio. È vero, bisogna fare una turnistica, bisogna far sì che effettivamente questo peso della domenica vada equamente distribuito tra i vari dipendenti, bisogna far sì che effettivamente venga pagata la giornata festiva e non venga recuperata in un giorno feriale, ma da qui a dire teniamo chiusi gli ipermercati e le varie attività la domenica, mi sembra un'assurdità, ma non per un fatto concettuale, ma per un fatto proprio economico, materiale, perché dalle stime che sono state fatte, parliamo di numeri, in buona sostanza con l'impianto che vorrebbe creare di maio, un massimo di 12 giorni festivi l'anno per ciascuna attività commerciale e un tetto del 25% degli esercizi per ogni categoria commerciale, si perderebbe, questi sono i dati di confimpresse, se il provvedimento passasse, si perderebbe il 10%, il settore commerciale perderebbe il 10% del fatturato e ben 400 mila posti di lavoro, vi ho detto tutto, già siamo in un'economia agonizzante, se poi ci permettiamo il lusso di far calare del 10% il fatturato e di perdere 400 mila posti di lavoro, questa mi sembra una follia assurda, incredibile. Questo è di maio, perché si deve fare bello e deve dire la domenica devi farti la passeggiata in piazza, giusto, bello, va fatta, ma è giusto che ci siano le domeniche in cui il lavoratore fa la giornata in piazza, trascorre la domenica in piazza, in relax, con gli amici, con la famiglia, le altre domeniche in cui deve lavorare, ma non perché il lavoratore deve essere schiavizzato, per l'amor di Dio, ma perché se no le chiusure vanno a ritorcersi contro il lavoratore e il lavoratore poi si trova col sedere per terra, perché viene licenziato alla luce del calo del fatturato e del taglio di 400 mila posti di lavoro. Così come l'altra cavolata che ha fatto Di Maio è il cosiddetto decreto dignità, che in linea di principio può sembrare anche una cosa bella, giusta, inganna. Il decreto dignità in buona sostanza dice che i contratti a termine non possono andare oltre i 24 mesi e poi non vi possono essere, si passa dai 5 alle 4 proroghe. È un provvedimento in linea di principio giusto, perché uno può dire sì, dobbiamo evitare che si precarizzi il lavoro, non si può essere lavoratori a tempo determinato in eterno, è giusto. Però poi considerate anche quello che sta succedendo è che con questi provvedimenti, con questo limite che viene posto dei 24 mesi e di non più di 4 rinnovi, lo dicono i dati, gli studi effettuati dal Ministero, in questo modo non saranno rinnovati ogni anno 8 mila contratti a termine. Quindi con questo sistema i contratti a termine ogni anno si perdono 8 mila contratti e considerando 10 anni, dal 2019 al 2028, al mio Paese 8 mila per 10 cosa fa? Fa 80 mila, quindi noi perderemmo in 10 anni 80 mila contratti. E' lo stesso discorso che abbiamo fatto per il discorso del lavoro nei festivi. Queste idee sono giuste, però poi si scontrano con i dati di fatto, con i dati occupazionali e noi non possiamo assolutamente permetterci una situazione del genere. Così come anche il discorso, sempre nell'ottica di non precarizzare ancora più il lavoro, la soppressione dei voucher e riservarli solo a determinati tipi di attività. Anche qui si crea un sistema in base al quale, parliamoci chiaro, il lavoratore rimane a spasso, si ritrova senza lavoro. L'imprenditore non può, ovviamente come nel caso del contratto a tempo determinato, prorogare questo contratto e quindi dice al lavoratore ti saluto. E se ne prende un altro e si assume un altro lavoratore, ma nel frattempo in un anno si sono persi 8 mila posti di lavoro. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che Di Maio non ha la cultura, non ha l'intelligenza, non ha l'esperienza per poter parlare, per potersi districare in ambiti, in discorsi che sono molto ma molto più grandi di lui. Qui stiamo parlando di economia, signori cari. Qui stiamo parlando di occupazione. Qui si tratta di fare un danno enorme al paese Italia. Cioè uccidere l'occupazione in Italia sopprimendo in dieci anni 80 mila contratti, 80 mila posti di lavoro. Questo significa 80 mila contratti. Di Maio non lo capisce perché i suoi orizzonti sono limitati, perché nella sua vita che cosa ha fatto? Ha fatto attività precarie da quel che mi risulta lo steward allo stadio, venditore di bibite allo stadio, qualche lavoretto. Ma stiamo scherzando? Ma si può lasciare l'Italia in mano a gente che, scusatemelo, non ha né arte né parte? Queste sono le conseguenze. Ma vi dirò ancora di più che questo discorso dei contratti a tempo determinato diventa ancora più grave per quanto riguarda il settore e l'ambito dell'attività scientifica. I vari ricercatori, proprio perché si trovano in una fase di formazione, hanno tutto un loro percorso che non può essere a tempo indeterminato, ma è fatto di contratti successivi, corrispondenti alle singole fasi di formazione e in quanto tali contratti a tempo determinato. Se noi poniamo il limite che ha posto Di Maio, signori cari, l'attività dei ricercatori si ferma e conseguentemente si ferma anche la ricerca, con danni enormi per quanto riguarda l'attività scientifica, soprattutto per esempio in ambito di medicina, della medicina, settore in cui l'apporto dei ricercatori è imprescindibile e prezioso. Insomma, parliamoci chiaro, detto così in termini spiccioli, Di Maio quando entra in ambiti che non sono suoi, veramente trovatevi un ambito che sia di sua competenza, combina danni. Ma è un danno per il paese Di Maio con i 5 Stelle, probabilmente in Italia siamo caduti dalla padella alla braccia, siamo caduti dai porci della partitocrazia ai ragazzetti assolutamente incapaci e presuntuosi. Signori, stiamo parlando di 80 mila posti di lavoro, di 80 mila contratti in 10 anni, 80 mila persone che si ritroveranno col sedere per terra. Capito Pinocchietto Di Maio? Senza bavaglio, informazione libera, sempre!